Tragedia questa mattina nelle campagne di Barletta dove un uomo di 45 anni, Francesco Sardaro, è morto dopo il ribaltamento del trattore sul quale stava viaggiando. L'incidente è avvenuto in via Canosa sulla complanare per Rasciatano, ancora poco chiara la dinamica dell'accaduto sulla quale stanno indagando i carabinieri e la polizia locale. La vittima potrebbe aver perso il controllo del mezzo pesante ed esserne rimasto schiacciato dopo il suo ribaltamento, oppure il 45enne potrebbe essere sceso dal trattore per sistemare la cisterna che stava trainando ed essere stato travolto accidentalmente dal mezzo. Quello che appare probabile dai primi rilievi è che nella tragica fatalità di questa mattina non sia rimasto coinvolto alcun altro mezzo, che quindi l'incidente non sia stato causato dalla collisione con altre vetture di passaggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'agricoltura barlettano.